In questa stagione di Undercut, le quattro squadre di boscaioli del nord-est devono lottare per proteggere il fragile ecosistema alpino. I clienti, sempre più agguerriti, tentano di lucrare sul legno, offrendo contratti impossibili da soddisfare. Il lavoro nel bosco diventa sempre più faticoso. E le nuove generazioni non riescono a tenere il passo delle vecchie. Continuare a lottare per migliorarsi resta però l'unica strada per arrivare al successo. Anche se a volte più della tecnica... Contano gli attributi. Rischi crescenti, nuove sfide e difficoltà impreviste. Questo è il mondo di Undercut.